L'iter che potrebbe portare l'annessione della frazione di San Vito di Vigonza, 90 Padovana, si arricchisce di un illustre esperto, il professore di diritto costituzionale dell'Università di Padova, componente della delegazione trattante per l'autonomia del Veneto, Mario Bertolissi. Il costituzionalista è stato incaricato dal comune di Noventa di valutare la fattibilità di una richiesta di referendum da fare alla Regione Veneto, già sottoscritta da oltre 500 firme raccolte tra i residenti della frazione di San Vito che si trova inserito al momento all'interno dei confini comunali di Vigonza. Il tutto parte innanzitutto dalla volontà popolare della frazione, perché 530 firme è giusto tenerne in considerazione, ma soprattutto c'è stata la volontà di due amministrazioni, una molto generosa che è Vigonza, che ha approvato una mozione in Consiglio Comunale e successivamente è 90 Padovana con una delibera di consiglio e quindi il motivo per cui abbiamo dato l'incarico. La frazione di San Vito conta 1300 abitanti, è più lontana da Vigonza, molti residenti si appoggiano così proprio a 90 per i servizi, vista la contiguità, un aspetto fondamentale per la richiesta di un referendum, spiega il costituzionalista. I criteri devono essere oggettivi e verificabili, nel senso che non vi debbono essere ragioni pretestuose. Nel caso in questione la frazione non confina con il comune che eventualmente la cede, ma confina invece con il comune che chiede di incorporare la frazione, questo è un dato. I dati altri che si prendono in esame riguardano le prestazioni di servizi che vengono resi e quindi si tratta di verificare da che parte gravita la popolazione della frazione. La controparte, ovvero il comune di Vigonza, con una mozione presentata in Consiglio Comunale, ha espresso il suo sostegno ad ascoltare le istanze dei residenti di San Vito. Il punto da definire è chi spetti ora a votare nel referendum. Naturalmente si deve partire dalla premessa che è l'esito del referendum consultivo e si tratta quindi di verificare se c'è una maggioranza che chiede di passare. Chi è la popolazione interessata? Ecco, se tutto il comune o parte di esso solo la frazione, va collegato alle ragioni che ho indicato un istante fa. Il sindaco di Vigonza, Gian Maria Boscaro, insieme ai suoi uffici, sta invece studiando le criticità emerse nel distacco per quanto riguarda alcuni finanziamenti del PNRR.